c'è molta più gente in cilio c'è più traffico le macchine circa c'è un bel po di traffico ci sta lavoro per niente si è calato dell'ottanta per cento è sceso dell'ottanta per cento il lavoro però almeno resta aperto ah sì almeno sì diciamo almeno cerchiamo di recuperare le spese gli altri che dicono gli altri commercianti ma ci lamentano tutti si lamentano tutti tutti quanti si lavora un po è un pochino oggi vediamo domani come va la situazione rispetto ai giorni precedenti e già c'è di meno il calo a differenza di ieri tipo in percentuale già il 40 per cento già il 40 per cento però l'importante è stare aperti ci proviamo siamo chiusi ma abbiamo il cuore aperto continuiamo a fare vendita online cioè le nostre cliente ci possono chiamare facciamo le video chiamate le telefonate insomma facciamo di tutto è molto più difficile anche perché spesso mi tocca farmi vedere in video come mi vergogno tantissimo oltre che insomma si è molto più lunga la vendita ma non fa niente lo facciamo lo stesso rispetto al primo lockdown e trovo che sarà perché la prima volta era tutto nuovo eravamo tutti più smarriti e adesso come sappiamo cosa si può e non si può fare trovo che siamo meglio sì sì si acquista e abbiamo tutti voglia di qualcosa di nuovo di diverso anche per distrarci in questo momento